Trattative di mercato sempre più infuocate tra le pugliesi di Serie D. L'audace Cerignola snellisce il proprio organico. Hanno salutato la corte di pazienza, infatti, l'estremo difensore Carriero, classe 2001, accasatosi al Picerno, e l'esterno offensivo Battista, classe 97, nuovo calciatore della Torres. Team Altamura sotto assedio per Carlos Biason. Il metronomo argentino è inseguito da mezza Serie D, ma il club murgiano non vorrebbe assolutamente privarsene, anche se in caso di offerte rinunciabili non è escluso un suo addio allo spogliatoio murgiano, già salutato precedentemente dal difensore Cannito e dall'esterno avvantaggiato. Il Molfetta, infine, lavora soprattutto sul fronte uscite, in virtù degli ingaggi già ufficializzati di Strambelli e Lacarra. Sanì è l'indiziato principale a salutare i colori bianco-rossi, mentre potrebbe rimanere fino a fine stagione Ventura, anche elli però corteggiato da diverse società, soprattutto di eccellenza.